ciao a tutti abbiamo un nuovo unboxing oggi siamo qui per unboxare un nuovo pacco che mi è arrivato io sono già portato un pochino avanti giusto per facilitare la cosa e far venire di meno il video andiamo a togliere questo scotch questo ultimo strato di scotch ok ed eccolo qui ragazzi è stato messo un po all'incontrario nello scatolo lo vado a togliere un attimo il sistema vabbè lo faccio vedere così ragazzi ho preso pixel edizione dvd più blu ray più blu ray 3d più digital quella edizione un pacman ed edizione se non mi sbaglio francese di film di video giochi con adan sandler edizione edition limited 3d questo include una lampa led pacman collector ok qua spiega come far vedere il 3d quello che è incluso e questa è la confezione andiamo a vedere l'interno andiamo a togliere tutto si apre di qua ecco qui ragazzi pacman che mangia la città molto ben fatto tutto pixel uso alla uso alla tipo minecraft questa è la città molto ben fatta anche questa e vediamo un po sotto non c'è scritto niente ok apriamo il cassetto di qua e voglio capire un po dove stanno i film ok apriamo il cassetto di qua e qui vediamo un po pixel c'è una cosa per scaricare forse un gioco qua c'è il libretto per il film digitale bello questo artwork così pacman qui c'è film pixel 3d e qui c'è blu ray e dvd molto ben fatta mi piace molto questa edizione e niente ragazzi questo era l'unboxing di film pixel edizione francese con pacman e niente mettete vi piace commentate iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli ciao